Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Se un giovane deve iniziare a fare fumetti, come si deve improntare e che cosa deve fare? Tutto, innanzitutto, deve partire da una grande passione, perché a meno che non sia un talento innato, può essere, che tu abbia la capacità innata di disegnare il classico virtuoso, in quel caso potrebbe essere un lavoro piuttosto lungo, fatto con una grande forza di volontà, molta costanza e un po' di spirito e di sacrificio. A questo ci devo aggiungere sicuramente una buona dose di didattica, per cui o cercare dei corsi, e oramai in Italia ci sono delle buone scuole di fumetto, oppure frequentare l'Accademia Libre d'Arti, l'Istituto d'Arte, vari licei. Anche solo tentare di conoscere altre persone che come te hanno la stessa passione, può aiutare per progredire nel disegno o nel fumetto, in questo caso particolare. Ma ti potrei rispondere in due modi contraddittori, nel senso che potrei dirti che non è cambiato niente, ma che nello stesso tempo è cambiato tutto. Il fumetto è un linguaggio che ha avuto un'evoluzione, ma è rimasto comunque legato alle sue radici, radici, nel senso che si esprime attraverso il susseguirsi di vignette e quello funziona ancora così. E' una serie di disegni con dei balloni e quello è ancora così. Ci sono stati artisti bravissimi sia nel passato, ce ne sono altrettanto adesso. Riguardo alla tecnica forse qualcosa è cambiato, perché oramai con la tecnologia alcuni passaggi sono spariti. Addirittura sono spariti i originali, nel senso che ci sono alcuni disegnatori, per esempio, che fanno tutto direttamente al computer, lavorando su queste tavolette grafiche e quindi inventando il disegno direttamente nel video. Ecco, questo può essere forse la cosa più evidente dell'evoluzione del fumetto. Ah, beh! Oddio! Una domanda qui... Sì, ci dovrei pensare... Prima ti stavo rispondendo Gordon, Flash Gordon, perché è il primo fumetto che ho letto, probabilmente, perché lo leggeva mio padre. Però la seconda parte della tua domanda mi fa pensare ad un fumetto che mi piace, nonostante sia brutto. Beh, sì, probabilmente c'è. Ma non ce n'è solo uno, ce ne sono diversi di fumetti che non sono amati dal grande pubblico, ma che per me però hanno un valore, perché, che ne so, legati magari alla storia, oppure a quel preciso momento in cui li ho letti. Ecco, per esempio, ci sono, però, sì, no, ma in realtà, se ho capito bene l'altra domanda, ci sono dei fumetti, che leggevo quando ero piccolo, che erano le versioni italiane dei fumetti, dei cartoni animati giapponesi, che sono considerati brutti, perché sono delle copie, perché sono fatti dai fotogrammi giapponesi, con uno stile veramente casereccio. Però quando riguardo quelle tavole a casa, a casa dei miei, dove sono conservati questi fumetti, per me hanno un valore incredibile, perché sono legati appunto alla mia infanzia. E nonostante riconosca, diciamo, la mediocrità, però in realtà per me sono bellissimi. E alcune volte, quando faccio i miei disegni, mi rendo conto che la mia impostazione è dovuta anche a quelle immagini, a quei disegni che ho visto quando ero più piccolo. La cosa che mi ha veramente più stupito è proprio il circolo che si chiude, il cerchio che si chiude tra samurai, storie di samurai western, griglia di Tex, che si ritorna di nuovo al cosa che è veramente stupenda. E si ritorna all'Oriente e questa cosa è veramente stupenda. Ma è stata pensata o per caso d'avete studiata a tavolino o è casuale? Io l'ho chiesto a Roberto dico la verità, io l'ho chiesto a Roberto e lui mi ha confermato che il passaggio Akira Kurosawa, Leone e Ciambara era quello che aveva in testa. Sì, perché lui come appunto è stato già scritto ha sempre voluto fare Tex con la katana, cioè questa era la sua idea per queste storie di samurai. E in effetti appunto alcuni film di Leone, come dicevi prima, hanno guardato il cinema giapponese, alcuni autori americani poi a sua volta hanno guardato di nuovo sia all'Italia che al Giappone per sto pensando a Tarantino, no? Per altri film. No, per quanto mi riguarda no, nel senso che io non ce l'avevo pensato. Semmai questa strana sincronia, ecco, di eventi ha confermato il mio pensiero, nel senso che Roberto sta scrivendo una storia sui samurai che parla di onore e di codici che appunto per chi è appassionato di Giappone di quel periodo sa benissimo di quale importanza aveva il puscito la via del samurai per per questi guerrieri. Il fatto di lavorare su queste storie con una griglia come quella di Bonelli che era un po' un codice per me era la cosa più normale, cioè era esattamente quello che dovevo fare per riuscire a entrare bene in queste storie. Cioè come se fossero dei binari da cui non potremmo uscire perché quello lì era il mio codice del nord, la gabbia bonelliana. non abbiamo quasi mai superato il numero di legnetti a memoria mi pare che non è sforato mai adesso. No, quasi mai. Cioè o tu per sforato intendi se ci sono disegni che escono fuori dalla gabbia o disegni tipo così ma questo qui è o più che altro di niente magari diagonali ma in metri diagonali sempre tutto molto ortogonale per i meno diciamo dentro al linguaggio la gabbia bonelliana è quella la costruzione a tre strisce con massimo sei lignette diciamo ogni in totale a pagina qui abbiamo un esempio di gabbia tipica qui magari c'è se vedete tutti non lo so qui c'è la lignetta è una mezza splash page che è già una mezza eccezione in bonelli text normalmente non va sulle grandi dimensioni anche se ultimamente lo sta facendo con il mio text Roberto l'ha fatto ci sono delle immagini così grandi dire di più il formato francese la gabbia francese è anche diversa perché c'ha più vignette quella giapponese è completamente pazza nel senso che ha vignette diagonali che si incrociano non ha vignette è completamente a sé rispetto alla gabbia ortogonale a questo modo di vedere appunto la pagina ti dirò anche che le bogge che faccio prima di disegnare le faccio su dei fogli acquadretti questi fogli acquadretti per me sono fondamentali perché questa griglia un'altra griglia gli aiuta a questionare la rufferenza non è che la domanda era bellissima è bellissima la risposta la domanda è stata molto casuale perché è banale nel senso io chiamo no non gli ho chiesto se l'aveva mangiato gli ho chiesto più o meno no gli ho chiesto semplicemente se attualmente stesse ancora collaborando con la Sergio Bonelli cosa stesse facendo e quindi qui è uscito fuori una cosa per me molto interessante e ora ce la dirà lui sì ancora sono state queste due storie nella prima versione quella di in pien nero insomma adesso non è quindi è dato il successo perché non è stato il successo non lo so cosa è stato comunque è stato altissimo l'indice di gradimento adesso le vendite dei molemmi non si sono mai benissimo però è stato altissimo l'indice di gradimento tanto è vero che se volete fare questa edizione ma prima che i kebbao decidessi di fare questa edizione già Bonelli aveva deciso di mettere un cantiere appunto una miniserie oramai le chiediamo miniserie perché le serie lunghe sono impossibili cioè o comunque quando si dice serie lunghe poi chiuderanno 20 27 intanto vale di dire un miniserie in questo modo si può preparare un ciclo di storie che va da 12 a 24 e quindi insomma riuscire ad organizzare meglio tutto il lavoro i personaggi che ci sono in queste due storie saranno i protagonisti di queste vicende per cui oddio voi ancora non l'avete letto per cui forse non sapete chi c'è ma comunque ci sono il tradigione in queste due storie è un vecchietto che sarebbe diciamo un vecchio cieco lici che non è esattamente un personaggio inventato da Roberto perché è un personaggio presso dalla letteratura giapponese il famoso Zato Ishii forse lo conoscete per un film di Tekashi Kitano in realtà è un personaggio su cui sono stati fatti una miriade di film in Giappone e Kitano non è quello più importante infatti il personaggio che ho disegnato io in realtà si ispira all'attore principale che ha interpretato Zato Ishii che è Città Lukatsu si chiama così Patienza che è un attore brevissimo famosissimo ed è lui che mi ha ispirato per il suo volto oltre a lui poi abbiamo un giovane fumurai che è il suo maestro che però vabbè un progetto è una giovane una nobile ragazza che insomma si trova in Cattile Acque e per questo dovrà diciamo e per questo subisce diciamo una trasformazione e tutti questi personaggi insomma si riuniranno e cominceranno un viaggio in questo periodo Edo non tanto fantastico nel senso che comunque sono sempre storie che hanno una struttura piuttosto realistica un viaggio in Giappone con questi personaggi che appunto avranno delle avventure se vi interessa il tema direi che insomma la serie potrebbe quindi serie da 12 numeri per ora è la prima per adesso 12 numeri sì non tutti i disegnatori che a me è chiaro io ce ne metto un anno per fare una storia del genere per cui sarebbe impossibile organizzare una serie come disegnatore io farò i primi numeri e poi ci saranno altri disegnatori e anche sceneggiatori immagino della scuola di Abonelli che ancora non poterà non poterà alcuni sono quasi ufficiali io scommetto su Bertha e Stellera bravo anche perché lui ha già un'esperienza con Bertha sui samurai perché il numero di Giordò che è quello che poi per me è stato proprio fonte di ispirazione era ambientato proprio nel progetto Giordò ritornava nel passato c'era questa avventura con dei samurai nel caso interessasse anche Giordò adesso era ripubblicato in mega volumoni vario sempre da Rabao e ci sono questo io credo che faranno almeno la prima stagione la faranno tutta sono 99 numeri non si vogliono imbarcare in questa impresa un altro disegnatore che è quasi sicuro è Luca Gerovese che adesso sta disegnando che ha disegnato Orfani con Roberto e che è uno dei votori di Beta che è questa storia sui robotoni giapponesi bellissimo e che adesso sta facendo una novità spoiler e qui c'era anche Manzella scopi Manzella è uno dei pop-up di scendatori scusa parliamo bene sì infatti Manzella è un autore di Beta nonché scendatore anche lui di Tiran Dopo su The Color Fest e anche su dei sumeritro su Orfani ha scritto anche una storia tutti gli autori con cui Roberto sta lavorando ultimamente dico un'altra cosa quando facciamo questi incontri è Roberto a fare la parte di Tiran ed è lui che mi fa sempre complimenti allora stavo che voglio intagliare a me piace tantissimo come scrive Roberto se volete leggere la sua sceneggiatura originale all'interno del libro c'è un QR code che si fotografa e ti rimanda ad un link e lì ci sono oltre alle matite alle bozze di questa storia ci sono anche c'è anche la sceneggiatura originale delle due storie così potete fare il confronto insomma si impara tanto leggendo il disegnatore si impara io mi ricordo che ho detto ne lessi una di Sclavi qualche tempo fa qualche anno fa Sclavi scrive pure la posizione in cui è il bicchiere sul tavolo nello sfondo quindi il disegnatore ha veramente poco scappo in quel senso eh invece con Roberto non è esattamente così o almeno con me non è così perché secondo me l'aiuto di Roberto per fare un sacco di cose è quello di più che di descrivere esattamente la scena è quello di suscitare la scena per cui quello di farti vedere subito che cosa deve succedere che cosa si deve vedere e quindi di dare molta libertà al disegnatore che per me il disegnatore è una cosa fondamentale io vorrei scappare il paragone perché ho lavorato anche con altri sceneggiatori e qui ti so che alcune volte una descrizione troppo dettagliata può essere una gabbia un po' impossibile in quanto difficile noiosa ecco invece in questo modo è veramente molto piacevole adesso ho una domanda che faccio a tutti gli autori disegnatori che incontro che vengono qui da noi a fare incontro allora in uno scontro tra Batman e Rambo chi vince degli Batman Batman un applauso scusate io che ho io che ho io che ho no non è vero però cioè qui tu non sai che c'è una guerra di religione su sta cosa vedendo dall'esterno se arrivasse un giapponese e dice ma voi tagliati fate i samurai ma io mangaka no che mi metto a fare i mafiosi che mi dite che ne posso capire io cosa ti risponderesti? beh guarda è una domanda legittima ed è anche un'opinione legittima però secondo me ci sono tantissime risposte allora potete dire beh però avete fatto la rivoluzione francese oppure potete parlare di Cesare o di altre storie inventate in Italia loro lo fanno ci fanno dei manga costruiscono delle storie bellissime ambientate in paesi diversi che non sono in Giappone l'Italia cioè gli italiani hanno inventato il genere spaghetti western e hanno cioè ha funzionato nel senso che anche per gli americani è diventato un punto di riferimento canonico quindi adesso lungi da me dal pensare che questo qui può diventare un punto di riferimento però io non è che faccio questa storia per i giapponesi e quindi non mi pongo il problema su come loro possono vederlo no? il mio il mio pubblico è l'Italia e quindi io diciamo che lo faccio comunque quando penso a queste cose lo penso per le persone che come me sì hanno subito l'invasione dei cartoni di Giapponesi dei manga comunque dei fumetti che parlano di determinate cose e che quindi possano riconoscersi ecco però io ci penso sempre a questa cosa e ho paura a chiedere io a Keiko non ho mai chiesto che cosa le pensasse di questa storia perché ho paura perché so che mi direbbe che i personaggi non sono giapponesi cioè ed è vero per quanto mi sforzi di fare gli occhi a mandorla non ci riesco cioè e sono più a mandorla gli occhi grandi di Kenny Kenny che i miei che sono allungati per quanto mi riguarda considerato che i disegnatori giapponesi non fanno le tue occhi a mandorla appunto esatto però quando riguardo io con i là li vedo giapponesi e me no e quindi ho sempre questa paura di confrontarmi con questa cosa però finché rimango con Italia direi che è legittimo cioè posso farlo non sono il primo tra l'altro ci sono molti disegnatori francesi che si sono cimentati su queste storie c'è uno che ho guardato tantissimo che è un disegnatore morto che si chiama Gigi che si lo so che dice poco però ha fatto Ugaki due storie sono state pubblicate anche in Italia molto tempo fa Alessandro no era Alessandro l'ha visto l'ho trovata se non mi sbaglio l'ho visto l'ho trovata ah sì sì no beh perché volevo vedere proprio come siccome stavo leggendo un sacco di fonti giapponesi guardavo moltissimi film immagini giapponesi però ero curioso di vedere come un occidentale potesse rappresentare questo paese e quindi avevo guardato lui e i francesi quando fanno queste cose qua sono bravissimi cioè essere freddo se sia legittimo no insomma ragazzi mediamente mi dispiace che l'ho fatto e non ho mette di volta studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro e lo Grazie a tutti.